Musica Recitazioni di poesie, concerti, danza, tutto dall'alba all'altramonto. Si tratta del suggestivo rito della luce, il progetto promosso tra Tusa e Motta da Fermo dal mecenate Antonio Presti, il servizio di Giovanna Cuscia. Dall'alba al tramonto, una giornata trascorsa a Motta da Fermo, sulla colina che domina le isole eolie, tra poesie e canti per rinnovare il rito della luce nella piramide 38esimo parallelo. Un momento di forte spiritualità voluto anche quest'anno per la quarta edizione dal mecenate Antonio Presti che per l'evento nei giorni del sostizio d'estate ha riunito oltre 100 artisti. Un dono alla Sicilia, lo definisce Presti, che lo ha organizzato attraverso la sua fondazione in una società che ha smarrito ogni senso di dignità e bellezza, sottolineato voglio restituire un momento di ritualità che sia capace di parlare al cuore della gente. E così è stato per i partecipanti, tutti rigorosamente vestiti di bianco. A Motta da Fermo sono arrivate oltre 5.000 persone, secondo gli organizzatori. Hanno letto poesie, alternato danze e meditazioni yoga, molto suggestivo il momento all'interno della piramide. La giornata si è conclusa in tarda serata con la luna tinta di rosa al perigeo, cioè nel punto più vicino alla Terra.